Franco Alfieri resta in carcere, lo ha deciso il GIP Valeria Campanile all'esito dell'interrogatorio di garanzia, scegliendo di non attenuare né revocare la misura cautelare inflitta al sospeso presidente della provincia di Salerno la scorsa settimana. Gli avvocati di Alfieri hanno già annunciato che faranno immediato ricorso al riesame. La loro speranza era che le risposte fornite da Alfieri e magistrati avessero potuto cambiare la situazione, ma gli stessi avevano anche affermato che i tempi stretti non avevano permesso di portare ai magistrati le prove necessarie a soffragare le dichiarazioni del loro assistito. Ora dunque il prossimo passo è il riesame, mentre si è in attesa delle decisioni del GIP in merito agli altri cinque indagati ancora ai domiciliari sentiti dai magistrati mercoledì scorso. Tra di loro anche Andrea Campanile, considerato nell'inchiesta braccio destro del sindaco di Capaccio e che ieri ha rassegnato le sue dimissioni da capo staff. Giovedì intanto si è svolta la prima seduta del consiglio comunale di Capaccio Pestum senza Alfieri. In apertura il presidente del consiglio, Angelo Quaglia, ha parlato della situazione che sta vivendo il comune come una delle pagine più tristi della sua storia, ribadendo assieme al resto della maggioranza la vicinanza ad Alfieri e la volontà di dare continuità all'amministrazione. Di segno opposto invece la dichiarazione del consigliere di minoranze Emanuele Sica che ha chiesto nuovamente le dimissioni della maggioranza. Capaccio ha detto non può attendere i tempi della giustizia, i coprotagonisti di questa situazione stacchino la spina per consentire alla città di andare avanti.